Presenti chiaramente, restiamo in Sicilia, andiamo a Siracusa per accogliere Sabrina, benvenuta Ciao Giancarlo Ciao bello, che bella voce squillante, adesso sto un quarto d'ora con te al telefono, mi piace, facciamo festa No, ho capito Angelo, tranquillo, un quarto d'ora, mi dicono che devo stringere perché i tempi non ci sono Mi piace chiacchierare con voi, stai bene Sabrina? Sì, sì, anche se qua piove, è insolito per noi Ogni tanto, esatto, succede anche in Sicilia E quindi la bellissima Siracusa, però mi fa piacere anche immaginare questi luoghi sotto la pioggia Cosa proponi in questo menu musicale? Dalle mie riminiscenze di 14enne ti propongo i Duran Duran con New Moon on Monday Perché è perfetta per oggi, no? Eh beh, certo che sì, brava, 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 brava Sei una pischelletta comunque, altro che riminiscenze No, 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 sono passati tanti anni Comunque io li ho rivisti a Taormina quest'estate e mi sono rifatta Ti è piaciuto il live? Sì, 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 bellissima Simon è sempre in forma? Eh diciamo di sì, dai, si difende Ma insomma, secondo me Vabbè, Sabrina, ti accontentiamo, grazie per essere stata con noi oggi su Radio Capital Grazie a voi, ciao Ciao, a presto, ciao